È trascorso un secolo dall'inizio della storia, da quando la famiglia Angelesi lascia Sorrento per cercare fortuna a Brooklyn e la piccola Farinella, cresciuta a pomodori, farina e tradizioni, fonda il primo ristorante con il suo nome. Oggi Farinella è cresciuta fino a diventare un simbolo della ristorazione italiana, dove tutto concorre a realizzare il miracolo di un'autentica cucina mediterranea. Subito, di Farinella colpiscono i vibranti colori mediterranei, il design luminoso ed elegante, la preparazione a vista, la perfetta ospitalità dei locali, la varietà e la ricchezza dei gusti, il piacere di mangiare bene. E poi, di Farinella si apprezzano le persone, la viva cordialità, il profondo spirito di squadra, la sapienza dell'ospitalità italiana. A dieci anni dalla prima apertura in Italia, la rete conta oggi numerosi ristoranti Farinella, tutti diretti, nei quali l'azienda ha potuto sperimentare e definire un modello di ristorazione solido e vincente. Così, un ristorante Farinella permette di investire in un progetto di amore per il proprio lavoro, per le tradizioni più autentiche, per il consumatore. Un progetto made in Italy, made with love. Farinella, made in Italy, made with love.